Il 56esimo Gran Galà del Pesce Spada, dopo il fermo dell'anno scorso si riparte? Sì, si riparte, ma devo anche dire che non ci siamo mai fermati perché organizzare il Gran Galà del Pesce Spada così come noi lo vogliamo portare avanti è un onere continuo, per cui oggi sono soddisfatto non solo degli amici che oggi sono stati presenti, ma sono soddisfatto perché la tematica del Gran Galà del Pesce Spada sta prendendo sempre di più piedi e quindi sta diventando veramente quello che noi come Consiglio ci aspettavamo. Si comincia il 30 con il concorso Miss Sirena della Costa Viola e poi a concludere il primo di agosto con la degustazione in piazza, in mezzo tante cose. Sì, abbiamo tre giorni di movimento veramente molto interessante per Bagnara, ma non solo per Bagnara, ovviamente per i visitatori. Noi ci stiamo prodigando affinché il Gran Galà del Pesce Spada possa essere, come dire, rinomato sempre di più unitamente alle altre manifestazioni che in tal senso si tengono a Bagnara. Devo ricordare la Saga del Pane, devo ricordare anche qualche altra manifestazione grossa che si tiene ad ottobre, che è un ricordo di mia Martini. Quindi sono manifestazioni che danno l'uso alla città che lo merita tutto sommato. Ecco, la Proloco non è sola in questo Gran Galà perché tante associazioni, agenzie ed enti si sono messe assieme per sostenere questo evento. Assolutamente sì. Noi praticamente partiamo proprio con l'agenzia guidata da Zoccali Pierfrancesco che ha assunto l'onere di organizzare tutta la giornata e non solo del 30. Praticamente noi utilizziamo il socio Zoccali per far sì che la manifestazione interessante della sfilata organizzata da lui possa avere quella risonanza che merita, ripeto, che merita sia Bagnara ma che merita la zona, il territorio della Costa Viola. Ecco, tante belle cose, un bel programma, però è chiaro che il clou della manifestazione è il piatto cucinato dal ristorante e dallo chef Rocco Lesai. Sì, beh, Rocco Lesai non ha bisogno di presentazione. Rocco Ianni del ristorante Lesai. Rocco Ianni del ristorante Lesai non ha bisogno di presentazione. Lui ha spiegato poco fa che cosa intende dare agli ospiti che quel giorno saranno qui a Bagnara. È veramente un menù ricco delle sue iniziative. Quindi Rocco Lesai, conosciuto come Rocco Lesai, ci soddisfa pienamente e noi da molti anni ormai lo chiamiamo per dare onore a questa manifestazione che la Prologo sta portando avanti da 56 anni e questo gli consente anche di annoverarla tra le manifestazioni storiche della Calabria. Ecco, Presidente, ultima domanda. Filo conduttore, quest'anno la Bagnarota. Sì, noi il sabato che diamo i riconoscimenti a determinate persone, l'ho sempre spiegato, che non sono dei premi ma sono dei riconoscimenti a persone di Bagnara o comunque, anche se non sono di Bagnara, che hanno a cuore la città di Bagnara. E quest'anno il tema proprio del sabato è la Bagnarota. La Bagnarota che sostanzialmente ha conquistato i cuori della Calabria e non solo. Quindi noi quest'anno parleremo della Bagnarota e daremo dei riconoscimenti a personaggi che si sono cimentati nella loro vita a voler bene Bagnara e a parlare bene anche di questa storica persona, donna, che negli anni ha dato lustro a questa città. Bene, l'appuntamento è al primo di agosto per la degustazione, ma teniamo presente anche il 30 di luglio con il concorso Missi Sirena della Costa Viola, il primo di agosto con il premio il 31 luglio con il premio alla Bagnarosità, come ama dire il Presidente, e poi il primo agosto la grande cucina in piazza.